Ora vi presento il nostro Franciacorda Brut, è un classico brut, 18 mesi di fermentazione su lieviti, è un 100% chardonnay, quindi fresco con questi sentori di costa di pane dato proprio dalla fermentazione dei lieviti, ma nello stesso tempo con questi sentori fiori bianchi e soprattutto molto delicati. Come vedete la bollicina è molto fine, la spuma è lunga. Questo è un vino che si adatta bene a tanti piatti della cucina italiana, però io personalmente lo vinerei a una pupa di pesce alla Mediterranea. Questo è un vino da scegliere in occasione di feste, cumpleanni, una cena con gli amici e anche a tutto pasto, perché la freschezza di questo vino vi piacerà e vi soddisferà il palazzo. Brutta Romantica per la nostra famiglia è un po' una scommessa. Noi come famiglia volevamo una bollicina di qualità e sul territorio bresciano il territorio migliore era proprio la Franciacorda.